Sabato 9 luglio, Santa Armando, è il 190esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 175 al termine. Il sole sorge le 5 e 31, tramonta alle 21. La luna sorge le 16 e 23, tramonta luna e 31. A Venezia vi è imposto in vendita un Dante con le glosse, cioè un manoscritto della Divina Commedia con commento. È una delle tante prove a testimonianza dello studio di cui era oggetto fra i veneziani il sacro poema, a solo pochi anni dalla morte di Dante. Le previsioni per domani, tempo in prevalenza soleggiato salvo temporanei passaggi di nuvolosità ma con bassa probabilità di precipitazioni, temperature senza variazioni di rilievo.